Bentornati in questo nuovo video, io sono Dixio e oggi siamo su Darkichow Questi qua li avevo fatti ma non me li avevo registrati, quindi li facciamo insieme a voi dall'ultimo episodio che era il livello 27, non mi ricordo male quindi dovrebbe essere il livello 27 Conseguenza, punto, la mia conseguenza è la conseguenza della conseguenza Avete capito lasciate un mi piace, se non avete capito lasciate un mi piace iscrivetevi se non l'avete ancora fatto Ok, non mi ricordo bene i tasti, noi andiamo piano pianino Ah ecco cos'era questo, ok, non lo ricordo, non vi preoccupate Cosa c'era? Che qua c'era questo qua che ti spingeva giù Ok, vai, 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 prima che ti schiaccia, prima che ti schiaccia E porca punzoletta ladra, per non dire altro Comunque, ce la possiamo fare, eh, mi raccomando Allora, qua è tutto un gioco di colpo di tacco on the tack Ok, vai, 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 prima che ti schiaccia, prima che ti schiaccia, prima che ti schiaccia, ok Allora, prima, non devo evitare macelli, partiamo dal fondo Ok, ecco è stronzo, devo partire da un altro, ok O comunque lasciate un mi piace e iscrivetevi E se avete voglia consigliatemi qualche giochino così figo, carino Che potrei provare insomma a voi Ok, 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 si sta prendendo via, 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 prima di morire, prima di morire Vai, 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 vai così, ecco Ora, qua era in basso Occhio che ci siamo Ok, si sta chiudendo, 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 si sta chiudendo E apriti Vai, si sta prendendo via, 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 via Vai così, verso l'uscita in the world, forever and ever E uno è fatto E l'uscita fatta, ok Spinta, ecco la spinta Perché mi devi spingere Allora, un bel po' di rumore Ok, qua, non mi ricordo mai Tutto a destra, tutta a destra, tutta a destra, tutta a destra, tutta a destra Se no ci lasciamo il pacchettino, ok Ora qua non me lo ricordo Non me lo ricordo Ok, dritto, 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 dritto Ok, muri a non schiantarci malamente Ora, boh, ora qua sarà Ora, 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 dritto, 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 continuo ad andare dritto, continuo ad andare dritto Ok, ce l'abbiamo fatta E siamo arrivati all'uscita Easy, easy Proprio via così, facile, facile E voilà, fatto anche questo Schiacciare, ecco Perché mi devono schiacciare come un grissino In un gocciolo Boh, comunque Ok, questo qua è abbastanza infame No, 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 no Ok, qua si sta aprendo Si sta aprendo Si sta chiudendo Ok, si sta aprendo di nuovo Non possiamo andare Vai, vai, prima Eh, no, si crepiamoci Non ce la facciamo in tempo Non ce la facciamo in tempo Si, invece, ok Ora Qua è La parte fondamentale Di importanza fondamentale Non facciamo cagate Perché si sta chiudendo Si sta aprendo E non ce ne andiamo Vai, 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 vai Verso l'uscita In the world Ok Ok, si sta di nuovo aprendo E non ce ne andiamo Vai, dimmi che ce la facciamo in tempo Dimmi che ce la facciamo in tempo Dimmi che ce la facciamo in tempo Dove sta Vai così Ce l'abbiamo fatta anche questo livello Vai così E due E no, siamo nel terzo Però, va bene Follower Livello 30 Follower Cosa ci abbiamo Ok, qua niente Che ca... Qua è l'estra cagata Ok Ok Qui si aprono delle strade Secondo di noi Dove andiamo Avete capito il concetto Spero Allora, se di qua non c'è nessuno Possiamo andare di qui In teoria Ok Di qua è libero Di qua c'è libero 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 Perché mi sta tanto Che sto facendo il giro intorno Oh no Qua c'è una porta Che cosa ha aperto Sta porta Che cosa ha aperto Sta porticciola Non questo Non Perché si sta alzando Sto coso qua Mi interesse Mi interesse Qua Penso Qua c'è Un'uscita Qualcone Oh abbiamo trovato L'uscita Abbiamo trovato L'uscita E via Anche l'uscita L'abbiamo trovata Quindi saremo A posto No 31 Rivelazione Dovremmo Dovremmo essere Quasi alla fine Presumo Ora di qua Troppo difficile Andare in diagonale C'è una porta E Non era così da fare Ok Comunque Ho imparato Dai miei errori E ora so cosa fare Bisogna stare attenti Proseguiamo piano piano Mi è venuta in mente un'idea Proseguiamo piano piano Dopo ci lanciamo subito I sassi Vai così Vai verso lì Bravissimo Bravissimo Mostriciattolino Bravissimo Perché qua C'è la morte Eh già Lì c'è la morte Lì c'è la morte Ancora Quindi qua Non c'è Sì C'era la morte C'è la morte C'è la morte Levati 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 Due Ce n'è Ce n'è due Non uno Ben due Quindi Noi ci mandiamo Qua Uno E Andate qua Andate qua Andate qua Andate qua Bravissimi Bravissimi Mandiamoli qui Ma vieni Infami di Puzzola Poi ora Mandiamo così E mandiamo il mostriciattolo Di qua Piano Ok Di qua niente E non si va di qua Non voglio morire Poca roba Eila Ok Ok qua c'è Il muro Per quello Lì Occhio Non morire Di qua E via E Piano piano Non facciamo Cagate Manda il mostriciattolo Di qui Quanti ce n'è Ok Ok Lì c'è la morte La morte peggiore Del mondo Vediamo un po' Ok Quindi possiamo proseguire Di qua Poca roba Non so cosa sto Dove sto andando Piano Pianino Occhio a non fare Cagate Con sti scatti Ora Pronti Lì c'è l'uscita Ok Lì c'è l'uscita Se non mi ricordo Dai Lì c'è l'uscita Non ci credo Da che ce l'ho fatta C'è l'uscita Cos'è qua L'uscita Ce l'abbiamo fatta Si Imboscata Direi che per il prossimo episodio Lì imboscata ci sta tutta La dix è tutto Comunque Per quello sto con bisogno di qua Al prossimo episodio Dai dix è tutto Un mi piace Un commento Iscrivetevi Se non l'avete ancora fatto Condividete il video E ciao a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti